Manca poco! Siamo a te e 50 ragazzi! Forza, ragazzi! Iscrizione di massa! Iscrizione di massa! Vai! Oh! 9.60! Ci siamo, via, via, via! Attenzione! 9.60! Oh! VAMOOO! a il quando di conti a la casa un ringraziamento a tutti quanti a a a a ragazzi è la nostra ragazzi innanzitutto 17 gennaio 2015 ero nella mia cameretta ricorda ricorda ancora Mirko disse quindi diciamo che anche il nome però il nome l'ha creato Mirko dimmi un po' di nomi poi si sono uniti questi altri ragazzuoli che adesso fanno parte della mia vita e di voi davvero bene come se fossero dei dei fratelli e ragazzi un ringraziamento ma anche a voi e mi sento davvero onorato di aver raggiunto questo obiettivo non ce l'avrei mai fatta senza l'aiuto di Mirko senza l'aiuto di Antonio perché i Fuse Gamer non sono solo io Fuse non sono solo io ma anche Mirko e Antonio ma anche Tatino e Henry Lanza quindi ragazzi non lo so sono senza parole veramente siamo la dimostrazione tutti insieme che l'unione fa la forza e non è solo un modo di dire ma noi lo dimostriamo con i fatti giorno dopo giorno auguri a tutti quanti auguri a noi auguri a ai Fuse Gamer eccoci qua al massimo al massimo al massimo Grazie a tutti 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 quanti Nulla 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 si festeggia ancora Vabbè la festa è appena iniziata Vabbè la festa è appena iniziata è vero quindi ci sarà divertirsi adesso parleremo di magari retroscena che non conoscete e volevo dire a tutti gli elizzi di scostarsi un attimo perché vorrei fare entrare una persona importante della mia vita e la vorrei annunciare davanti a tutti quanti in questo momento molto speciale per me prego al milione allora signor Fuse Gamer ha aspettato un milione di follower per dirvi che in realtà ma io non l'ho fatta ho preso il primo pantaloncino vieni qua vieni qua non l'ho giuro prima ci avevo freddo era il primo pantaloncino la stemma chiama di più un applauso per Fuse Gamer noi ti vediamo bene lo stesso andrea bravo andrea io non è il contrario ti saliate più forti bravo andrea big dream alla salute auguri a tutti voi in this life aaaaaaa aaaaaaa ma dici no ti volevo dire che sei migliore sei più bello sei tutto sei tutto sei tutto aaaaaa grazie ma in questo video in questo video aaaaaa boborcatron ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah ti posso dire una cosa non posso dire a tutti quanti però no ma non sto facendo sentire ti voglio bene anch'io sei amore sei tutto e sono felice che stai con Natà ok perfetto ehhhh va vabbè 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 Grazie Ciao mamma Così la chiudiamo Salatina Oggi la Ssh Che? E' di quello che ti ha spiega Una cosa senti Eh ciao Grazie Adesso abbiamo festeggiato Per il milione di Andrea Questo piccolo traguardo Andrea ti auguro Il meglio E di Andare sempre Più avanti Più là E di aggiungere un altro zero Facciamo dieci milioni Assolutamente sì Perché Ne hai le capacità E sono sicuro Che Li raggiungerai presto E allora Signori E per Andrea Anzi no Per il plus game Ripipo Urra Ripipo Urra Ripipo Urra Ripipo Grazie 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 Vorrei passare la parola A Salvatore Vai vai Ma ti vuoi che ho faccio Senza ridere Fa ridere André 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 Ma dimmi la verità Portati col cuore Dai col cuore Guarda gli occhi e parlami Ci conosciamo Ci conosciamo da tanto Abbiamo passate tante Cazzo lì E' appugato l'aria E' emozionato Vedi io bene andré Sono contento E ti auguro Di passarne altri 10 miliardi No 10 milioni Io conosco Andrea Da quel magico torneo Da quel magico torneo Possiamo dirlo No Io Andrea lo conosco da No da prima di tutti Devo dire che Vabbè lo sanno Che mi stava sul cazzo Effettivamente Ah ti stava sul cazzo Però Però poi L'ho conosciuto Vabbè quando guardavo i video suoi Perché L'ho conosciuto su youtube Lui L'ho conosciuto su youtube Poi l'ho conosciuto personalmente E' stata tutta un'altra persona Era veramente Un ragazzo loro Poi ha avuto La fortuna Barra La sfortuna Di conoscere anche Mirko e Mister E No devo dire che Questo traguardo è veramente meritato Perché Ci mettono veramente Impegno Noi che siamo Oh shit Occhia a te Oh my god Scusate Oh shit No E' un amore Solo per il milione Solo per questo L'ho fatto E' un amore in condizionato Tra me Mirko E' tipo Dante con Beatrice E devo dire che Ha un traguardo Veramente meritato Sono parole scontate Però Ragazzi è veramente così E' l'hoppo E' E' Quindi Ragazzi siamo pronti Tra poco diciamo che concluderemo alla grande Questo festeggiamento per il raggiungimento del traguardo Tanto agognato Il milione Che sarà un punto di partenza Non solo un traguardo ragazzi Finalmente Ragazzi UN! Lei sun Над pink Non è edito Voglio dire di altri Ragazzi 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 Un slu o fa Ragazzi 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 E' un'emozione quasi indescrivibile direi Ci siamo Ci siamo arrivati Dopo tanti anni Tanto lavoro Il vostro affetto ci ha premiato Siamo emozionati E ti vogliamo bene ragazzi Grazie a tutti Bravi Quindi ragazzi lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivetevi al canale Noi ci rivecchiamo ad un prossimo video Bravi ragazzi Noi ci rivecchiamo ad un prossimo video Noi ci rivecchiamo ad un prossimo video